Questa notte l'equipaggio della nave Joe Barents di Medici Senza Frondiera ha salvato 500 migranti. Perché tanta ostilità nei confronti delle ONG? Stano c'è stato uno dei soccorsi più belli che siano stati eseguiti nel canale di Sicilia. Quando dico belli intendo dire non soltanto riusciti, per fortuna, parliamo di quasi 500 persone. No, dico belli perché anche dal punto di vista della tecnica marinaresca, dell'impegno, della qualità dell'intervento, ci troviamo di fronte a una bella pagina di storie di mare. L'hanno scritta le ONG, non è che il fatto che ci siano organi istituzionali con altissime capacità marinare che impedisce che siano le ONG, altri, insomma, volontari a fare il soccorso. L'ostilità c'è. L'ostilità è maturata secondo precise indicazioni politiche perché il tema dei migranti è un tema che è stato affrontato spesso evocando paure e nemici piuttosto che puntare sulla risposta complessa, difficile certamente, da dare al fenomeno migratorio che è un fenomeno che non si ferma e non si fermerà, piuttosto che fare dei progetti grossi di gestione dei flussi migratori, si è preferito immaginare che il canale Sicilia fosse una porta, che questa porta potesse essere sbattuta e che questi volontari che stanno lì a fare il proprio mestiere di volontari, quello che fanno in tutte le emergenze, terremoti, pandemie, questi volontari fossero i nemici. E questo è purtroppo una scelta dalla quale poi è difficile tornare indietro perché i nemici facili, una volta che vengono scelti come tali, additati all'opinione pubblica come tali, è difficile che poi ritrovino un giusto ruolo nelle dinamiche di cui parliamo. Però questo è un problema epocale che non è mai stato affrontato in maniera decisa e determinante. O forse non ci sono i mezzi per poterlo fare. L'Europa sembra un po' timida, il Presidente Mattarella l'ha anche richiamato ad un intervento più deciso e determinante. E allora cosa bisogna fare? Tempo fa noi parlavamo proprio di lei in un'altra intervista di creare dei corridoi, ma perché non si riesce a farli? È difficile perché dall'altra parte, sull'altra sponda, ci sono stati, governi che purtroppo sono poco credibili, spesso penso alla Libia in particolare, ma anche alla Tunisia pone problemi di credibilità nel suo insieme, nell'organizzazione politica. Per cui è difficile interloquire con realtà politiche che spesso sono... In Libia ci sono momenti anche di guerra civile, di scontri istituzionali forti. Però, visto che questo impegno dell'Europa è un impegno sfuggente, un impegno spesso poco deciso, l'Europa spesso ci lascia soli in questa vicenda, i fondi, i finanziamenti, quelli sono tanti, che l'Europa dedica a questa materia, andrebbero secondo me spesi in modo diverso, piuttosto che a foraggiare organizzazioni che ormai si è saputo sono malavitose, che agiscono sulla tratta dei migranti, di questo si tratta, e bisognerebbe invece, e magari con l'ausilio dei volontari, istituire quei canali umanitari di cui parlavamo e fare in modo che dall'altra parte, sull'altra sfonda, possano crescere, oltre che uno sviluppo economico, perché è l'unico modo che possa trattenere lì le persone, possa crescere anche la possibilità di partenze regolari. Spostiamoci un attimino. La tragedia di Cutro. La Guardia Costiere è sempre stata un fiore all'occhiello della marineria italiana. Ma cosa è successo a Cutro? Ha delle responsabilità o no? A Cutro è successo che abbiamo raccolto il frutto di mesi, forse anni, di una successiva sedimentazione di scelte amministrative e politiche che hanno allontanato l'impalcatura dedicata al soccorso dal proprio obiettivo. È successo a Cutro che l'imbarcazione che chiunque avrebbe individuato come un'imbarcazione di migranti, il rischio, se non imminente, ormai prossimo, è stata declassata, diciamo così, a una vicenda che andava, semmai, seguita dal punto di vista di polizia. era un evento migratorio, era un arrivo di clandestini. Trattata in questo modo, ma prima non sarebbe successo, la barca è stata lasciata al proprio destino, perché un'attività di polizia può interrompersi se a un certo punto le circostanze, le attività si fanno più difficili. Cioè, se io devo inseguire un ladro sui tetti, non è detto che a un certo punto se c'è pericolo per me io debba salire sul tetto, l'aspetto di sotto. E quella vicenda, così come una vicenda di polizia, a un certo punto si è interrotta, perché le motovedette sul posto hanno detto, non dobbiamo necessariamente andare verso di loro, magari creeremmo anche problemi, li aspettiamo a terra, ma a terra sarebbe arrivato il mare che si è aggravato, a terra ci sarebbero state le onde su cui poi quella imbarcazione è andata a rovinarsi. Seguendo i dibattiti in televisione, molto spesso si fa confusione, non si riesce a capire o comunque seguire il filo del discorso, tra chi ha ragione da un lato e chi ha torto dall'altro e viceversa. E allora, però, una volta ho sentito parlare di migranti economici, migranti di necessità, ma che cosa vuol dire? È una delle tante traiettorie sbagliate che si assumono quando si vuole criminalizzare un fenomeno e allora si prendono questi migranti e si danno etichette, in modo che alcuni sì, altri no, altri ancora forse. Le norme internazionali sui diritti umani dicono che tutti noi abbiamo il diritto di muoverci come e dove vogliamo, naturalmente seguendo le regole dei luoghi che andiamo a toccare. Ma la forza della migrazione è una forza che attiene a quella dei vasi comunicanti. Se mettiamo insieme una bottiglia piena, una vuota e mettiamo un tubo in basso, l'acqua della bottiglia piena tende ad andare. Non si possono fare, sono leggi fisiche quasi, non si possono fermare, si possono regolare. Questo si deve fare, assolutamente. A proposito di regolare, nel dibattito, seguendo il dibattito sempre in televisione, comincia a farsi strada l'idea di mettere in mano alla legge Bossi-Fini. Perché la Bossi-Leggi-Fini crea queste contraddizioni, semmai ne crea, e in che senso dovrebbe essere cambiata o modificata? Ormai è una legge datata, ha mostrato tutti i suoi limiti e nel tempo abbiamo visto che il fenomeno va continuamente riletto, reinterpretato. Quella legge ha avuto poi tutta una serie di episodi normativi successivi che l'hanno anche in parte snaturata, modificata. Il problema in Italia è che noi non possiamo fare le politiche migratorie in mare, le dobbiamo fare a terra. Dobbiamo farle pensando al mercato del lavoro, pensando alle possibilità di impiego delle persone, senza che vengano sfruttate. Possiamo farlo soprattutto pensando al fatto che l'Italia è Europa, quindi non dobbiamo essere solo noi a dare le risposte. Ma quando esce, nei primi giorni di gennaio di quest'anno, un decreto che si intitola quello di piante dosi, che si intitola gestione dei flussi migratori, lo vai a leggere e vedi che è soltanto una serie di ostacoli frapposti all'attività delle navi ONG e ti accorgi che questa politica migratoria si è spostata in mare, dove si devono fare i soccorsi, e consiste nel creare soprattutto ostacoli al salvataggio delle vite umane.